E' solo una questione di forza e di volontà. Pensa! Una cosa semplice. Rosso, rossa, rossa. Ok? Rosso. Il colore di questa penna è... Il colore di questa penna è... Il colore della penna che ho nella mia mano destra è... Il colore di questo penna che è... Ah, maledizione! Che pazzesco, non riesco a dire perché rossa! Lo scriverò. Il colore di questa penna... a 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 maledizione la penna è blu la penna è blu questa maledettissima penna è blu a 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